Dopo due K.O. consecutivi e otto gol incassati nelle ultime tre partite contro il Taranto, conterà in primis la vittoria, soprattutto ritrovare la necessaria solidità, caratteristica peculiare dell'undici di Alberto Colombo. Sotto il profilo del gioco a Francavina Fontana, prestazione senza dubbio all'altezza, la migliore dell'ultimo periodo, ma senza il conforto del risultato, ovvero la cosa più importante. Per questo rimpianti enormi. Piccato da qualche rilievo, il tecnico Lombardo chiosa così. Non posso aspettarmi onestà intellettuale da parte di tutti. Io cerco di metterla, più che onestà intellettuale metto coerenza. Quindi se vedo una prestazione positiva anche dentro una sconfitta, ci tengo a sottolinearla. È chiaro che gli errori sono stati commessi, sono sotto gli occhi di tutti, non ci nascondiamo, non vogliamo nascondere niente, però è stata fatta una buona partita. Il Taranto in lotta per la salvezza, squadra ispida, organizzata, che ti costrigge a giocare male, pugnace come il suo allenatore Ezzolino Capuano. Colombo rilancia in grosso, dopo sei panchine di fila gli farà spazio Bobben e De Sogus. Il probabile 11, plizzari tre pali in difesa, Cancellotti, Brosco, Ingrosso e Crescenzi a centrocampo, prima volta senza mora, fermato dal giudice sportivo. Giocheranno Aloi, Palmiero e Craia, davanti De Sogus e Cuppone a supporto di Lescano. È una squadra che somiglia molto al proprio allenatore, che è riuscita a plasmarla, che è una squadra ostica e organizzata. Diciamo che negli ultimi periodi, al di là dei risultati negativi, ha sempre fatto far fatica agli avversari a fare gioco. Quindi ci aspetta anche qui, come sempre, una partita ostica, una partita difficile, se soprattutto non viene interpretata nel modo giusto. Pessimo il trend esterno del Taranto. Pareggio 7-Capa, appena tre gol fatti e ben 19 subiti. Ma nell'ultimo turno i Rosso-Blu di Capuano hanno fatto soffrire la vicecapolista Crotone e soprattutto sfiorato il successo nei minuti di recupero. Indisponibili Rajcevic, Panattoni, Infantino, Diabì e lo squalificato Antonio Romano. Recuperato il centrocampista Brandi, probabile 11-3-5-1-1. Tre pali, Vannucchi. In difesa, manetta l'italo-brasiliano Mattias Antonini e il 19enne Nicolò Evangelisti. Scuola Roma, proprietà Empoli, figlio di Luca, DS del club Ionico, ex centrocampista della Giulianova. Sulle fasce, Mastro Monaco e Ferrara. Metacampo, l'argentino Gaston Romano, Labriola e Mazza. In attacco, Guida, ex Vasto Girardi e Tommasini. Il tecnico, Ezio Lino Capuano. Noi andiamo ad affrontare una squadra fortissima, non forte, che ha dei principi di gioco importanti. E' inutile dire di chi la guida e la stima che io ho verso queste persone. Però siamo convinti anche di quello che noi possiamo mettere in campo. Quindi noi andiamo a Pescara per far risultato. Su questo non c'è ombra di dubbio. Convindi che possiamo far risultato. Bilancio precedente in Abruzzo dal lontanissimo 1946-47. 10 vittorie a Pescara, 3 pareggi, 2 blitz del Taranto. 12 ottobre 1986 nelle immagini Serie B. Biancazzurri di Galeone al termine di questa stagione promossi in A. Autentico, miracolo, calcistico. Si impongono 3-0. Primo successo in campionato. Sblocca Pagano, poi si scatena Rebogol. Autore di una doppietta. Sempre in B, 12 gennaio 1992, accade l'imponderabile. Il rinvio da oltre 70 metri del capitano del Taranto, Luca Brunetti, si trasforma in un missile che sorprende Torresin. 1-0 Taranto. Poi espulso Camplone, ma il Pescara di Galeone agguanta lo stesso il pari. Grazie a questo rigore molto generoso, trasformato da Eddie Bivi. 24 novembre 2002, Serie C. Biancazzurri di Ivo Iaconi prevalgono 1-0. In stirata, la prudezza di Federico Giampaolo, assistito da Di Fabio. 17 febbraio 2008, il Pescara di Franco Lerda avanti con Micco. Fuga di Felci e velo di Senzovini. Momentaneo pari di Agnello Cutolo. Gol partita di Marco Senzovini, ispirato da questa splendida giocata di Antonino Cardinale. Un anno dopo, 22 febbraio 2009, nuovo successo del Delfino. 2-0 sul neutro del Biondi di Lanciano. Match winner, l'argentino Lucas Simon, autore di Entrambi Gol. Il secondo su assist di Marco Stella. Due le vittorie del Taranto in B. Il 27 gennaio 1991, 3-1. Doppietta di Insanguine e rete di Turrini. Per i Biancazzurri, momentaneo pari di Flavio Destro. 3 rosso-blu del compianto Walter Nicoletti. In campo anche Luca Evangelisti, attuale DS del Taranto. In C.I. il secondo blitz, 14 aprile 2002. Il Taranto di Simonelli, subentrato proprio ad Eziolino Capuano. Dalla quinta giornata vince 2-1. Bomber, Rigano prima fa autogol, poi pareggia sul rigore. A quattro dal termine, cross di Andrisani. Rigano non sfiora neanche il pallone. Sorpreso l'estremo Biancazzurro, Mimmo Cecere. L'ultima sfida all'Adriatico. Finisce invece in parità, sempre in C.I. novembre 2009. Presidentessa Deborah Caldora, da neanche un anno nuova compagine societaria, allenatore Antonello Cucureddu, la sblocca Massimo Ganci. Nella ripresa, il pari Tarantino di Nicola Russo.